Sono stati inviati, non perda la calma. Ok, ecco l'amministratore delegato. Spero che gli piacciano gli esercizi che abbiamo pensato per lui. Fallo cadere per terra. Oggi è cardio. Ehi, tutto a posto? Hai ripreso tutto? Marcus, è stata la cosa più bella che mi sia capitata oggi. Pubblico subito il video. Lo splendore di uno stronzo che cade su un tapirulano può portare la pace nel mondo. E da quando vuoi la pace? Intendo una pace metaforica. Grazie. Grazie.